E va ora in onda la seconda puntata della rubrica Il Cittadino Digitale. Oggi ci occupiamo di phishing, cioè delle mail trappole. Il servizio che vedrete è interessante perché è interattivo da casa, quindi voi potete decodificare i diversi QR code che compariranno sullo schermo per acquisire ulteriori informazioni, una novità che vi propone la testata giornalistica regionale. Vediamo. Buongiorno, oggi parliamo di phishing, ma prima ancora voglio ricordarvi di utilizzare il vostro smartphone, il vostro tablet, per fotografare con l'applicazione dedicata i codici QR che appariranno in basso a destra, così da accedere ai contenuti a valore aggiunto. Torniamo al phishing. Di cosa si tratta? Di una truffa online, il cui obiettivo è rubare i dati personali, i nostri dati praticamente. Gli strumenti con cui avviene tale truffa sono le mail, forse lo strumento più utilizzato, ma anche i whatsapp, gli sms, le chat attraverso i social network. Come avviene? Purtroppo dei malviventi tante volte mandano milioni di messaggi e simulano istituti di credito, grandi aziende, enti governativi. Questi messaggi arrivano a delle potenziali vittime. Queste vittime al loro interno leggono una comunicazione di una richiesta all'azione, perché si blocca un conto corrente piuttosto che un pagamento, e vengono divisi in due tipologie principali le azioni. Uno è quello di scaricare un documento. Vediamo degli esempi, Equitalia, Cartelli Settoriali o Procura della Repubblica, documenti su desequesto. Ovviamente è tutto finto, ma nell'ansia clicchiamo, scarichiamo, apriamo purtroppo un virus, sempre, che ci blocca il computer o cripta le nostre informazioni per poi ricattarci. Oppure la seconda modalità operativa è che la vittima si trova un link, un collegamento ad un sito web, un sito web che è identico graficamente al sito del mid-tending, in quel caso l'istituto di credito, piuttosto che la grande azienda, dove viene richiesta anche chi un'azione, inserire login e password, perché casomai si blocca un account o per sbloccare un pagamento. Mettiamo login e password e i nostri dati vanno a finire da un'altra parte. E chi prende questi dati alla fine li utilizzerà contro di noi per fare operazioni sui nostri conti correnti. Attenzione, come riconoscerlo? Ricordiamoci, innanzitutto, non sono sempre un italiano perfetto. Seconda cosa, incitano sempre ad un'azione ben precisa, un link o scaricare un documento. Hanno sempre messaggi allarmanti e poi i link che sono presenti, lo potete vedere su questo esempio delle poste, sono sempre dei link che se ci posizioniamo con il mouse, dicono visivamente di connettersi a un sito, ma poi sotto, in basso, vediamo che si connettono a tutt'altro sito. Quindi assolutamente no. Come prevenire? Innanzitutto una serie di messaggi importanti. Tenere aggiornato l'antivirus, che ha sicuramente funzioni di controllo sulle mail, utilizzare i filtri di spam del provider della propria posta, ma soprattutto enti, istituti di credito non inviano email così importanti. Soprattutto non inviano email dove richiedono login e password. Quindi cestinarli. Abbiamo cliccato sul link, chiudiamo subito la finestra del nostro browser. C'è una comunicazione, un consiglio, quando dovete connettervi, verificate sempre due operazioni. Innanzitutto connettetevi digitando l'indirizzo sulla barra degli indirizzi del browser, ormai su un link presente all'interno di una mail. E ultima cosa, un dubbio, potrebbe essere in qualche maniera una società che deve veramente fare una comunicazione nei vostri confronti, allora prendete il telefono e chiamatelo. Sicuramente ci sarà maggiore chiarezza e maggiore trasparenza. E l'ultima cosa, prima di lasciarsi, una bella e positiva notizia. A Napoli, un accordo tramite la Federico II, l'Università e la Apple, ha permesso l'apertura dell'Apple Academy, iOS Developer Academy, un centro di ricerca e di formazione per i giovani sulle tecnologie Apple. Prima in Europa, una bellissima notizia per il nostro paese, per il nostro territorio, e quindi un'incitazione anche a potersi collegare. Vediamo qui una scormata e casomai entrare a far parte dei percorsi formativi di questo importante ente. Grazie a tutti e buongiorno.